Che partita, che partita, domenica di grande calcio e io penso che chi abbia visto questa partita, stiamo comunque ancora seguendo, si sia divertito quest'oggi perché è una partita veramente strepitosa da una parte e dall'altra, occasioni che non finiscono mai, veramente ogni minuto è viva, una guerra totale anche perché c'è in bilico un posto in Champions League d'Atalanta per ora, sta in vantaggio un azzello sulla Juventus con la perla, con la perla di Ruslan Malinoski su tocco tiro, su calcio di minuzione di Froiler e poi la palla prende un effetto veramente impressionante nello scendere e fa un gol pazzesco Malinoski dalla distanza che sblocca la partita e per ora la sta anche decidendo, ciao e bentrovati, rimanete aggiornati, attivate questa campanella per rimanere aggiornati su tutti i prossimi contenuti che escono ogni giorno sul canale e lasciate un bel like che non appena verrà la notifica, ma che partita stiamo vedendo, in fase difensiva la idea è pulitissima, soprattutto Toloi che nelle ultime stagioni sta acquisendo una sicurezza in se stesso clamorosa che oggi non fa passare nessuno, non ce n'è per nessuno, Jim City si sicuramente ha sofferto oggi e anche Demiral che ha sofferto Vlaovic, Jim City che non può affondare l'intervento perché è già munito, quindi è stato per gran parte della partita senza rischiare, perché non poteva e non si poteva permettere ma il big match se lo porta a casa la Dea, 1-0 sulla Juve che non ha giocato da meno, ha giocato molto bene, sarà una partita agguerrita per un posto Champions importantissimo Oddio Danilo, Danilo, Danilo è live, Danilo, ha pareggiato la Juventus, Danilo, mamma mia ma non è possibile, goli in live anche oggi mentre stavo registrando stavo dicendo la Juve gioca bene, voleva riprendere questa partita anche perché sono arrivate tante conclusioni soprattutto di Dusan Blavic che è minimo 4 nitide perché con grandi parate anche di Sportiello che si esercita oggi in una gran partita e poi del resto comunque Sportiello ha parato, ha parato anche su Rabiot che fa una bella conclusione su un tiro cross pericoloso e insidioso per la porta di Sportiello che oggi fa bene segna Danilo, calcio d'angolo, ripetiamo di Dybala, stacco di Danilo che la manda sul secondo palo di testa, non può riparci Sportiello su questa circostanza e la Juventus bareggia in live, mamma mia che partita, che partita, ha segnato Danilo e ora veramente il posto Champions per entrambe è di nuovo tornato pari pari a prima che iniziasse la gara per quella la Juventus a 46, l'Atalanta a 44 che beffa, che beffa per la Dea che nell'ultima partita non mi era piaciuta molto a livello di gioco come era costantemente in questi ultimi anni oggi invece mi ha convinto lottando su ogni pallone contro la Juventus che continua a non perdere in campionato dal 28 novembre da quella famosa partita contro l'Atalanta proprio di Giampiero Gasperini oggi beffata ora dalla Juventus e quindi costanza, costanza della squadra di Allegri che riesce a fermare la Dea con questo gol di Danilo ma alla fine ci sta un pareggio che sul campo per quanto ho fatto vedere ci sta totalmente, ci sta, ci sta perché la Juve ha trovato molte occasioni in it della gol l'Atalanta ha anche ripartenza, poi oggi molte occasioni sciopate da entrambe le squadre, ultimi tocchi sbagliati, ultime decisioni soprattutto per trovare la via del gol però c'è stata tanta qualità in guerra, Malinos che è un giocatore straordinario, anche Cup Miners oggi mi ha convinto molto ma dobbiamo parlare anche della difesa della Dea e la Juventus che è là davanti mette sempre pericolo con Vlaovic, Morata, Di Balla che fanno spendere molti cartellini a tutte le squadre veramente tanta roba, anche Bonucci oggi ha fatto una gran partita, episodi nel primo tempo clamorosi miracolo di Sportiello sul tiraggiro di Vlaovic appunto al terzo minuto che si accende subito la partita ancora Vlaovic con una gran conclusione facile per Sportiello però e poi una super occasione di Deron su calcio d'angolo sfizzata, palla che arriva a lui sotto porta e clamorosamente se lo divora questo gol è vero l'Atalanta ha avuto molte occasioni comunque sotto questo punto di vista e poi quella circostanza dove Shesny è uscito veramente male ha sbagliato i tempi andando addosso, proprio a carica a carica contro Cup Miners ritardo clamoroso del portiere ad arrivarci con un taglio di Freuler non valutato fallo dal direttore di gara poi dalla Moviola hanno detto che è giusto io sinceramente credevo fosse fallo però poi mi ovviamente inchino a quello che è la decisione della Terna arbitrale e quella di concedere appunto il calcio d'angolo perché poi successivamente col tiro la butta fuori Chiellin, Bonucci scusate e quindi calcio d'angolo per la Dea nel primo tempo possesso valla prevalentemente dell'Atalanta in parte anche la Juventus poi nel secondo tempo ritmi altissimi da una parte e dall'altra una partita spettacolare e la bellissima parata di Musso c'è nel secondo tempo appunto arriva fin sotto la traversa quasi sotto l'incrocio dei pali con un tiro al giro di Vlaovic che veramente oggi ci prova molte volte e entrambe le squadre oggi hanno portato occasioni offensive con tanta qualità ma anche quantità perché quando l'Atalanta ripartiva c'erano giocatori all'arrembaggio tutti davanti per provare a creare un'occasione super offensiva anche lo stesso Davide Zappacosta che mi è piaciuto tantissimo cioè nelle ultime partite mi sta convincendo un giocatore che se ha la condizione fisica buona se è in condizione in quella partita in una determinata partita è tanta roba a livello tecnico a livello rapido è veloce mentale nell'esecuzione del passaggio è bravo anche al tiro se dovesse arrivare in zona un giocatore tutto fare che ha giocato già nella Roma in Serie A e mi piace veramente tanto e oggi fa una gran partita ma l'Atalanta tutta all'arrembaggio ma poi perché quando riparte la Juve no assolutamente assolutamente anche quando ripartiva la Juventus oggi è una partita di grande calcio e questa partita è stata sudata perché entrambi non potevano perdere un posto Champions e il pareggio per quello dimostrato sul campo per me ci sta le critiche a livello arbitrale ci sono state perché è comunque questa è una partita di tanti contatti contatti veramente stretti che hanno portato cattiveria nel corso del match che a certe volte è stata anche un po' non controllata perché c'è agonismo c'è agonismo in queste partite però fatto sta che la Juventus pareggia nel recupero in extra time e riesce quindi a portarsi almeno un punto a casa che direi che sta benché stretto rispetto a quello che stavano fino al 92esimo quindi per questo è tutto noi ci vediamo alla prossima ciao